Donatello Di Prinzio, sindaco di Guardia Grele e Martina Nicello, vincitrice della tappa qui in Piazza San Francesco. Una bella serata con cantanti e balletti e tanta gente al seguito. Sindaco? Sì, è stata una bellissima serata. Oltre alla sfilata delle bellissime ragazze, abbiamo ascoltato anche della buona musica e complimenti agli artisti che avete fatto seguire questa sera qui da noi. Devo dire grazie a te Paolo, grazie a tutta l'organizzazione per aver dato lustro alla nostra città naturalmente questo porta benefici anche indiretti alla nostra Guardia Grele. È un grazie doveroso a Benito Taraborrelli che si è messo alla prova e al gioco come imprenditore della ristorazione però ha collaborato già da quest'inverno e questa sera poi con la serata conclusiva di Mista Triatico abbiamo visto che si possono fare le belle cose con l'impegno e la buona volontà. A tutte queste giovani ragazze che sognano di avere successo nel campo della moda e dello spettacolo lei sindaco dall'alto della sua esperienza che cosa si sente di augurarle, di consigliare? L'augurio di raggiungere gli obiettivi che si prefiggono però sempre con i piedi per terra e con la testa non farsi illudere dai facili arrivi per poter ottenere tutto a qualsiasi costo ma lavorando con impegno e sempre con umiltà. Martina Annicello, raccontiamo l'emozione della prima volta essere elette reginetta della serata che senso e che emozione prova? Bellissima serata, sono stata veramente tanto emozionata dato che non sono molto esperta nel campo è la prima volta che mi iscrivo a questo concorso e la dedico soprattutto ai miei genitori che mi sono sempre stati a fianco e spero di andare avanti così ma anche di avere successo nel campo del ballo. Se ti potessi descrivere in poche parole pregi e difetti di Martina Annicello, quali sono? Un pregio che può essere anche considerato un difetto e che sono molto sarda quindi quando mi metto in testa qualcosa io cerco di fare il possibile per raggiungerlo è un difetto forse che sono molto permaluosa. In genere si dice che c'è tanta rivalità nei concorsi di bellezza tu che cosa puoi dire a coloro che ci seguono da casa? È comunque fantastico fare amicizia con le altre ragazze anche perché si crea un legame molto forte di generosità anche verso di loro di aiuto reciproco quindi secondo me non esiste rivalità. Questo successo a chi lo dedichi? Ai miei genitori.